Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, il convento dei frati minori Cappuccini, ci troviamo proprio al di sotto della grande chiesa di Santa Maria delle Grazie, nella cripta, il percorso che porta verso altri luoghi di Padre Pio, su verso la cella e di lì la cripta di Santa Maria delle Grazie che per tanti anni ha custodito il corpo di San Pio da Pietrelcina. Oggi qui per leggervi una lettera che Padre Pio scrisse a Padre Benedetto, suo ministro provinciale, nel 1917. Era il 23 luglio del 1917 e lui scrive Ho letto e riletto attentamente la vostra lettera, quella che riguarda le vostre interne sofferenze e sono compreso da un senso vivissimo di umiliazione nel dover venire a decidere che cose che riguardano voi, mio padre, mia guida, mio superiore. Avrei voluto esimermi da questo dovere ma non posso. Avrei dovuto soffocare gli stimoli della conoscenza che mi avrebbe rimproverato di aver fatto male. Quindi invertiamo per un po' le parti e parlerò pure con tutta franchezza e sincerità. Ecco quasi le parti che si invertono. Padre Pio che fa da direttore al suo direttore spirituale. Chiamato a sentenziare su ciò che mi avete espresso nella lettera dichiaro senza torto alla verità dinanzi a Dio e alla mia coscienza essere tutto effetto di tentazione ciò che mi avete espresso nella vostra lettera. Sa il Dio padre con quale spirito io parlo in questo momento. In voi non ci sono cadute mortali provenienti dalla volontà deliberata, neppure vi sono cadute veniali commesse con piena avvertenza. Vi sono, è vero, delle cadute e queste non mai in cose gravi che provengono dall'inferma natura e sono ad esse propriamente le cadute delle anime anche giuste. Dio conosce benissimo la ragione per cui permette queste cadute nei suoi eletti. Quando anche in questo non vi si ricavasse che il solo profitto della mortificazione delle anime sarebbe gran cosa. Il timore, caro padre, di dare scandalo al prossimo e di essere per questo giustamente degradato è insussistente e ridicolo. La ragione sì è perché ogni punizione suppone sempre una colpa e colpa volontaria ma tutto questo manca quindi la punizione non avrà già mai luogo. Orsu dunque padre tranquillizzatevi, persuadetevi che questa volta voi state dalla parte del torto. Non vi è lescito affatto pensare che ciò che vi ho dichiarato innanzi a Dio l'abbia fatto per il fine soltanto di consolarvi perché avrei in questo caso fatto torto alla verità e avrei cullata fin da questo momento l'anima vostra in un sonno fatale per il suo eterno destino. La carità in tal senso, mi servo delle vostre stesse parole, sarebbe odio funesto e la pietà una crudeltà spietata. Quindi acquietatevi a queste assicurazioni che vi fo' d'innanzi a Dio l'ultima delle sue creature e troverete pace della vostra coscienza. Ne assumo io la totale responsabilità davanti a Dio.